Qualche giorno fa, e precisamente il 3 febbraio, è stato reso pubblico il decreto del Papa che dichiara ufficialmente Don Alessandro Dordi, martire della fede. Vediamo un pochettino a noi, Don Alessandro Dordi di Gromo San Marino, comune di Gandellino, quindi uno nato nelle nostre terre, in queste nostre valli, diventato prete qui in Diocesi di Bergamo, martire. Certo, noi siamo abituati, sentendo la parola martire, i martiri delle persecuzioni romane, le catacombe dove ci sono le tombe dei primi martiri. Ci vengono in mente santi che fanno parte anche della nostra devozione, tante delle nostre parrocchie, si sono dedicate a questi santi, li chiamano come intercessori, Sant'Alessandro stesso, San Lorenzo, sul versante femminile, Santa Agnese, che abbiamo celebrato non molto tempo fa. Cioè c'era, o forse c'è ancora, in parte, così un richiamo al martirio, alla testimonianza di questi antichi e primi cristiani per certi versi. Poi un po' ci siamo accorti che il martirio non è semplicemente dei primi secoli della Chiesa. Abbiamo capito, come diceva anche il Papa, che il secolo che abbiamo chiuso da non tanto tempo è forse il secolo dove ci sono stati martiri cristiani a Iosa, sotto la persecuzione nazista, sotto la persecuzione comunista, per carità, ne hanno viste di tutti i colori, imprigionati, torturati, ammazzati. Poi ci siamo accorti che nel mondo tutti gli anni ci sono persone che vengono uccise perché cristiani, proprio in odio alla fede cristiana o perché testimoniano il Vangelo e la verità del Vangelo che dà fastidio a qualcuno. Quindi pensano che vio a togliere di mezzo questa gente che annuncia il Vangelo, che annuncia la verità di Gesù Cristo. E allora adesso ci rendiamo conto che questi martiri non sono lontani né nel tempo e ora anche nello spazio. Don Alessandro Dordi, martire che proviene da questa nostra terra bergamasca, da queste nostre valli. Don Giovanni è chiarire anche un pochettino il termine martire per non darlo per scontato e anche perché ancora una volta lo stanno storpiando o ce lo stanno scippando, come si dice, in quello che è il suo vero significato. Forse è il caso di recuperarlo questo significato. Beh è vero, perché ogni parola ha un suo significato. Beh è martire, martur in greco vuol dire testimone, cioè uno che ha visto una cosa o una persona la difende e la diffonde. E' bene chiarirlo perché prima di tutto anche qui denota i gay poor martyr, cioè gente che, poveri diavoli, anche noi adesso paro ci stiamo diventando un po' dei poveri martiri perché bisogna dire di sì a tutti, se no ti squalificano. Poi addirittura sui giornali senti della gente che fa la guerra santa e sono dei martiri perché uccidono gli altri. Ne sentiamo, sono i martiri della giade. Ecco, il martire cristiano, cioè il martire di Cristo, è uno che porta avanti i valori del Signore, naturalmente con l'amore, la pazienza, facendo strada agli altri, come Don Alessandro, ai poveri, alle persone in difficoltà, pagando con la vita perché è vero, non solo Pinocchio ha dato una martellata al grillo parlante, ma Gesù stesso, proprio per il suo bene, è stato inchiodato ad una croce. Quindi se hanno fatto così al legno verde, che è Gesù, cosa non faranno al legno secco che siamo noi? E naturalmente ogni cristiano è testimone e martire. Qualcuno va a finire magari che gli sparno o lo mettono in segregazione, ma anche nelle nostre parrocchie, ma vai ancora a messa alla mattina, ma credi ancora alle balle dei preti? Anche qui, cioè, ti smontano con una battuta psicologicamente. Dal giorno della cresima, ciascuno di noi dovrebbe essere un martire, un testimone. Sarete i miei testimoni sino al confine del mondo, ci dice il Signore. Quindi noi dobbiamo chiarire bene che la parola martire è la caratteristica del cristiano, è testimone, naturalmente con le parole e con la vita, di aver visto in Gesù il senso bello della propria esistenza. Quindi il martire non è quello che toglie la vita, che ammazza gli altri, grazia di martirio è questo, ma è colui che dà la vita, è colui che offre la vita per la salvezza degli altri, per il bene degli altri, offre la propria vita e paga di persona questa fedeltà a Gesù, questa fedeltà al Vangelo, questa fedeltà ai fratelli. Questo è da chiarire bene. Nel mese di marzo c'è una ricorrenza che non so quanti ricordano, la giornata dei missionari martiri, ma dei missionari martiri di ogni anno e grosso modo le persone che vengono uccise in odio alla fede per il loro impegno di carità sono tutti gli anni 20, 30, 40 persone, quelle ufficialmente riconosciute perché poi di cristiani che purtroppo neanche si conosce il nome che vengono messi da parte quanto minimo gli viene resa difficile la vita e pieno il mondo perché sono cristiani. Basta aprire i giornali tutti i giorni cosa sta succedendo in Nigeria, cosa sta succedendo in Iraq, cosa sta succedendo in Siria, cosa sta succedendo in Cina, la grandissima Cina, cosa sta succedendo in Estremo Oriente in certi paesi ancora, cosa sta succedendo in India, i cristiani regolarmente ci vanno di mezzo, martiri, a volte veramente uccisi, a volte martirizzati lasciandoli in vita ma creandogli delle condizioni poco simpatiche. Don Alessandro Dordi, prete bergamasco che ha vissuto la sua testimonianza fino ad essere ucciso, ucciso in Peru, aveva scelto ad andare in questa terra dell'America Latina per dedicarsi agli altri. Ecco, in nome di che cosa? Un prete bergamasco perché qualcuno dice ancora ma c'è bisogno di andare in giro per il mondo col bisogno che c'è tra di noi. Questo uomo è partito per andare in una missione lontana senza essere di per sé dentro un istituto missionario. Un Papa aveva parlato del fideidonum cioè del dono della fede e in un'enciclica aveva invitato tutti i vescovi a collaborare nell'evangelizzazione perché magari in certe comunità ci sono uno o due preti o tre preti e in certe parti magari ci sono un milione di persone o anche di cristiani e non hanno nessuno. ecco questi sacerdoti si chiamano i sacerdoti del dono della fede fideidonum ecco Don Alessandro è uno di questi che ha detto io sono sacerdote bergamasco però comincerò magari a dare la mia testimonianza e se non mi sbaglio è stato in Polesine quindi tra questa gente alluvioni non alluvioni con ideologie tutte particolari comuniste è stato tra gli emigranti quindi in Svizzera in Belgio portando là la fede del Signore e naturalmente poi accettando l'invito del Vescovo era andato in Peru sempre con l'idea di portare il Signore e di elevare anche il tenore economico oltre che spirituale e morale di questi popoli aiutandoli davvero a condividere quello che è quel poco che si ha proprio in nome di Cristo naturalmente questa cosa dava molto fastidio è un movimento che se non mi sbaglio di nome Sendero Luminoso ha detto ne abbiamo piene le balle di gente straniera che viene qui a portare questo Cristo e questa uguaglianza sociale questa fratellanza e naturalmente prima due preti polacchi e poi al nostro sacerdote bergamasco ecco gli hanno sparato mentre tornava proprio dalla sua missione di Chibote e naturalmente lui diceva prima o poi mi sparano ma io in nome di Cristo non rinuncio ed è stato ucciso proprio per la fede mentre lui portava il bene a queste popolazioni del Perù siamo nel 1991 in agosto appunto due padri francescani conventuali di origine polacca vengono trucidati proprio da questi terroristi il Sendero Luminoso e il nostro Don Alessandro scrive a un amico sacerdote in questi giorni siamo particolarmente angosciati e preoccupati sicuramente hai saputo come il 9 di agosto Sendero Luminoso ha ammazzato due sacerdoti della diocesi di Cimbote sono due francescani polacchi che lavoravano in una vallata come la mia avevano 32 e 34 anni puoi immaginare la situazione di ansia in cui viviamo ci sono inoltre delle minacce chiare di prossime uccisioni Sendero Luminoso che con il terrore vuole arrivare al potere ha preso di mira la chiesa e dice ancora chiudendo Don Alessandro la situazione del Perù è angosciosa ogni giorno ci chiediamo a chi toccherà oggi a chi toccherà oggi quella domanda di Don Alessandro purtroppo trovò risposta pochi giorni dopo il 25 agosto del 1991 stava tornando da un paese dove aveva celebrato la messa stava andando in un altro villaggio gli è stata bloccato il percorso della sua auto e l'hanno preso e ammazzato lui ha cercato di salvaguardare la vita del suo autista chiedendo a questa gente di lasciarlo andare di lasciarlo libero si sarebbe offerto lui e infatti hanno ammazzato lui direi Don Giovanni la conclusione di un percorso tu hai accennato a questo prete bergamasco di Stigromo San Marino che si era inserito anche in una comunità particolare dei preti della diocesi di Bergamo che è la cosiddetta comunità missionaria del paradiso ecco forse tanti neanche la conoscono o forse se ne parla poco oggi in effetti in diocesi di Bergamo si sono creati insieme con tutti i sacerdoti iscritti appunto alla diocesi di Bergamo però alcuni che si sono dedicati e hanno pensato di offrirsi per qualcosa di altro che non fosse semplicemente restare in terra bergamasca preti veramente generosi che dicevano noi mettiamo a disposizione il tempo e la vita per questo io vorrei ricordare magari alcuni che conosciamo anche noi prima di tutto Monsignor che è vescovo Lino Belotti che veramente conosceva bene e ha seguito questa realtà l'esvicario generale Monsignor Antonio Locatelli col quale veramente era stato anche Don Andrea sono stati insieme per tanti anni in Polesine e tanti altri sacerdoti che hanno detto noi abbiamo capito che Gesù ha detto andate in tutto il mondo quindi anche se siamo preti diocesani vogliamo dare la nostra vita il nostro tempo perché tutti gli uomini del mondo possano conoscere il Vangelo certo all'inizio era un tempo determinato dai 6 ai 12 anni poi bisognava rientrare in diocesi ma poi tanti di questi sacerdoti sono stati come contagiati da questo desiderio di stare in tutte le terre del mondo e hanno continuato e quindi magari oggi penso una persona che potrebbe parlarci bene di questi preti generosi come Don Alessandro sono Don Antonio che c'è ancora e anche Monsignor Lino Belotti che seguivano proprio questi preti chiamati preti del paradiso che è questo che è bello che pensano non alla loro vita ma al paradiso al salvare le anime al portare la gioia della vita eterna che ancora oggi ci sono e hanno continuato questo quindi non è una rinuncia a dire ma potresti andare a fare il parroco a Vertova o a Torre Boldone dice beh qui fondamentalmente ci sono ancora tanti preti e magari tanta gente poi se ne frega e ci sono dei preti c'è una sete nel mondo di verità noi andiamo là e la diocese aveva creato ecco questi preti che erano disponibili a tutto il mondo tanto tu hai accennato Don Sandro inizialmente è andato in diocesi di Chioggia è andato nel Polesine pensa che nel Polesine dove lui è stato gli hanno fatto un monumento e gli era fatto un sindaco che probabilmente era un ragazzo ai tempi in cui Don Sandro operava in quella terra che ha apprezzato insieme con tutta la sua gente l'opera di quest'uomo di questo sacerdote ha fatto un monumento tra l'altro raffigurando Don Alessandro su una bicicletta perché era un po' lo strumento di locomozione di quei tempi con cui Don Sandro dava questa sua disponibilità alla gente andava a trovare le famiglie andava dove c'era bisogno ecco il suo stare con la gente è sempre stata una delle caratteristiche sia in Italia che in Perù di questo sacerdote martire e poi anche il fatto Don Giovanni di andare in Svizzera mandato in Svizzera tra gli emigranti erano tempi di grande emigrazione anche delle nostre terre bergamasche ma non solo ecco direi anche questo è un servizio significativo perché in fondo la nostra gente che partiva da qui si trovava sradicata completamente dentro un mondo altro e a volte non sempre simpatico e piacevole trovare qualcuno che ti sta vicino veramente ecco sono delle grandi persone anche umanamente coraggiose probabilmente avevano letto il Vangelo che diceva andate a due a due andavano a due a due si aiutavano non prendendo né visaccia né oro né bastone fidatevi solo del Signore in qualunque casa entriate portate la pace del Signore annunciate il Vangelo e curate le persone malate cioè malate perché stanno perdendo la fede sono lontani da casa loro a volte eseguivano dei lavori massacranti con pochi soldi e portare proprio veramente questa speranza veramente credo un vero discepolo un vero apostolo del Signore che nelle varie situazioni e non bisogna credere che nella vita bisogna fare delle cose straordinarie facevano straordinariamente bene le cose che il Vescovo gli chiedeva con tanta generosità a me sembra quando sono stato poco tempo a Gromo di aver incontrato una volta Don Alessandro che era a casa ma mi aveva colpito tanto per la sua disponibilità per la sua generosità e qualunque cosa gli chiedevi dice io ci sono vada se posso appena vengo io domani cioè veramente una persona disponibile e generosa per il Signore Don Alessandro Dordi martire in Perù per la fede per la testimonianza al Vangelo Don Alessandro Dordi nato a Gromo San Marino frazione del comune di Gandellino nel 22 gennaio del 1931 secondo di una numerosa famiglia di nove figli cresciuto in paesi dove credo la povertà era abbastanza diffusa la sobrietà quanto minimo della vita poche comodità e grandi sacrifici però in una famiglia di fede Don Giovanni non è che in fondo anche questo camminare in Bergamo nel Polesine in Svizzera in Perù di questo sacerdote come poi anche di altri ha un po' la sua sorgente e la sua motivazione proprio in quella che è stata la partenza nel proprio paese nella propria comunità nella propria casa io qui vado sicuro perché cito le parole di un santo bergamasco Papa Giovanni XXIII lui nel giornale dell'anima dice che ha letto tanti libri ha visto tanta gente che aveva studiato che gli ha insegnato ha girato tanti popoli ha visto tante tradizioni ma lui aggiunge che le cose più vere più belle più autentiche le ha imparate dai suoi genitori e dalla sua comunità di sotto il monte quindi veramente un seme quando è messo lì bene specialmente oggi nella copia nella famiglia questo seme diventa un grande albero e fa dei frutti meravigliosi per tutti quindi abbiamo ancora oggi a riscoprire perché anche la famiglia l'hanno buttata un po' da parte là dove c'è la famiglia che veramente la famiglia è importante per la società per la chiesa e è una cellula autentica perché se Don Alessandro è diventato così e noi di Bergamo ne andiamo gloriosi e dovremmo andare gloriosi per queste cose e non per i risultati dell'Atalanta o dell'Expo dovremmo andare gloriosi per queste cose e proprio perché qualcuno aveva cercato di concimare anacquare far crescere bene queste persone e credo che oggi nella nostra Bergamasca io credo ce ne sono ancora bene Don Alessandro Dordi martire della fede un nostro conterraneo un sagerdote della nostra diocesi nel mondo per dire il Vangelo e per dare la vita per il Vangelo lo chiederemo chiederemo la sua intercessione per essere un po' anche noi capaci di questa testimonianza un po' coerente ecco al Vangelo di Gesù Cristo che poi vuol dire essere coerenti con la vita grazie Don Giovanni della tua testimonianza grazie a voi che ci avete seguito l'augurio di una buona domenica grazie a voi grazie a voi